In questo breve video vedremo alcuni consigli per l'installazione di ActiveInspire. Allora, per prima cosa diciamo che il software può essere tranquillamente installato su macchine anche vecchie, su computer portabili o fissi anche vecchi, anche di diversi anni fa, 3 o 4 anni fa. La velocità del processore non è così significativa per un programma come ActiveInspire, importante invece è la RAM. Ormai i computer vengono venduti con almeno 2GB o addirittura 4, 6, 8GB di RAM. Se abbiamo un computer di 3 o 4 anni fa è molto probabile che abbia 1GB o più, quindi non avremo difficoltà ad usare ActiveInspire fluidamente. In ogni caso è consigliabile l'uso di macchine con almeno 1GB di RAM, questo per rendere più fluido il nostro lavoro. Avere per esempio più giga di RAM consente di tenere aperte più pagine e di rendere più fluido la nostra navigazione tra una pagina e un'altra del software. Poi, durante la fase di installazione ci verrà chiesto se installare una versione ridotta o completa. Consiglio la versione completa perché in essa ci sono tante risorse già pronte, esercizi, schemi, immagini, suoni, che possono tornarci utili in molte circostanze. Quindi consiglio l'installazione della versione completa. Poi, questo è il punto più importante. Al primo avvio il programma chiederà il numero seriale. Dal momento che ActiveInspire è molto probabilmente nella nostra scuola, la segreteria avrà il seriale con cui possiamo registrare la nostra copia. Il seriale è un numero e va inserito nell'interfaccia che qui vediamo. Alla voce username possiamo scrivere in fondo qualunque nome, il nostro o anche semplicemente docente. Alla voce organization anche qui possiamo scrivere qualunque cosa, l'importante è che il campo non resti vuoto. Possiamo scrivere ministero, miuro, il nome della nostra scuola. E poi, importante, serial number, dove inseriremo il codice numerico che ci verrà fornito dalla segreteria, comprensivo di trattini orizzontali. Una volta inserito quello, noi in basso a sinistra mettiamo il check verde sulla scritta A. Io accetto i termini della licenza e a quel punto si dovrebbe illuminare la scritta OK che vedrete qui al punto numero 3. Se questa non dovesse illuminarsi vuol dire che molto probabilmente è stato inserito erroneamente il serial number. E in quel caso sarebbe attivabile soltanto l'opzione Run Personal Edition, vale a dire una versione ridotta. Nel caso in cui volessimo installare il programma e non siamo in possesso del numero seriale, possiamo comunque farlo perché abbiamo ben 60 giorni di tempo per inserirlo. Trascorsi i quali il programma si avvierà in una modalità chiamata Personal, non Professional, una modalità con funzioni ridotte. Quindi abbiamo due mesi per installare la versione completa del programma, che è anche quella naturalmente più idonea per creare le lezioni. Sia con la versione Personal che con la versione Professional possiamo invece vedere le lezioni create da altri colleghi. Però ripeto, la differenza è che la Personal ha meno funzioni nel momento in cui andiamo a creare nostre lezioni. Al contrario la versione Professional che è arrivata alla 1.8 consente di avere funzioni più avanzate e più numerose.